il pod wolf trasmissioni speciali del lupo il contadino in cui converseremo con grandi autori attorno a temi specifici saranno diverse dalle puntate classiche senza rubriche divagazioni e quando non strettamente necessario probabilmente anche senza musica ascolti un po punk focalizzati senza troppi fronzoli su un solo argomento una sorta di piccoli volumi da conservare e riascoltare non audiolibri quindi rigidi nel loro confezionamento e preparazione ma dialoghi aperti perché vogliamo cercare di mantenere viva nei sentieri che prenderanno queste conversazioni una specifica forma di comunicazione orale con la sua immediatezza il suo ritmo e possibilità anche di improvvisazione impermanenze volume 2 dal 1985 al 1995 franco battiato raccontato da nicola perullo e da lupo e contadino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ed è qui con noi stasera come il mese precedente il mese scorso il prof il professore nicola perullo che fa rumore da circa 49 anni potevi barare però sull'età un po no potevi dire 39 39 anni è molto bello perché è l'età che corrisponde ai giorni massimi del bardo quindi il passaggio dalla morte fisica alla rinascita nella tradizione tibetana il bardo è il periodo transitorio che può durare al massimo 49 giorni in cui si rimane in uno stato intermedio e quindi io sono contento di questi 49 anni perché rappresentano il massimo dello stadio intermedio e spero poi di allenarmi abbastanza per praticare quando sarò poi morto e rimanere questi 49 giorni prima di trasmigrare in uno in un essere superiore spero insomma se mi comporterò bene o quantomeno rimanere umano non non deliberare animale abbiamo cominciato da 30 secondi non so se avete notato già un macigno non so se avete notato ma già perfetto tema battiato già questa introduzione in maniera analogica già introduce la puntata di stasera stasera come più che analogica comunque va bene damiano ha anticipato prima che andremo racconteremo battiato l'esperienza artistica musical di battiato dal 1985 al 1995 che è un po il periodo più adesso io qui davanti a me la playlist ed è interessante dal punto di vista spirituale nicola si diciamo che questa puntata è la puntata dove il discorso del dibattiato che abbiamo visto con la prima puntata per chi l'ha sentita o chi la che la sentirà essere stato così vario no avendo avuto molti diversi stili molte ricerche una ricerca in tante direzioni qui la ricerca si radicalizza molto e prende una strada che da un certo punto di vista non è definitiva perché poi la cambierà ancora ma sicuramente perde alcune caratteristiche perde la caratteristica del pastiche dell'ironia qui non si scherza più sostanzialmente oggi diciamo che nei testi anche nelle musiche di ironia non c'è non ce n'è molta nella puntata di oggi e c'è un approfondimento come tu dicevi del dello spirituali della spiritualità in una dimensione in questo periodo in questo decennio che oggi così focalizziamo che è quella di una spiritualità più cristiana seppure molto sincretistica come andremo subito a sentire poi con il primo con il primo brano mentre abbiamo visto la volta scorsa no questo inizio di ricerca musicale spirituale che è una ricerca con con il mistici indiani e poi con il sufismo qui diciamo che in questo periodo dalla fine degli anni ottanta per un decennio almeno si va in una dimensione più occidentale cristiana sempre con spunti sincretistici infatti poi ci sono anche le opere liriche come come genesi con cui inizieremo che appunto lo testimoniano ecco prima di mettere di salire il primo gradino della playlist della scaletta musicale di stasera ringraziamo intanto terracotta ristorante che ci sta ospitando salutiamo anche abbiamo qui davanti a noi un piccolo pubblico che sta ascoltando in diretta di persona il pod wolf e speriamo di non disturbarli troppo magari mentre si nutrono cioè nutritevi anche di altro se vi va ecco abbiamo 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 davanti anche due bottiglie di vino che è un punto fisso di ogni nostra sono andato a recuperare il bianco perché era rimasto perché è solo bianco ma anche voi due sto parlando del stasera no comunque aggiungerei solo un piccolo dettaglio guardando la playlist almeno ad uno di questi brani è necessario dopo averli ascoltati secondo me sono necessari almeno dieci minuti di silenzio adesso non vi spaventate non lo faremo però sai dieci minuti di silenzio in radio possono equivalere a più o meno cinque secondi secondo me dieci minuti in radio che c'è una densità quindi in uno di questi brani faremo cinque dieci secondi di silenzio a sorpresa non vi spaventate ritorniamo nicola partiamo con il primo brano in scaletta allora da genesi dunque genesi è la prima opera in tre atti scritta da battiato un'opera a cui lui ha lavorato molto dopo la metà degli anni ottanta quel periodo elettronico che abbiamo visto l'altra volta perché ha seguito c'è stato poi un periodo di silenzio di riflessione genesi è un'opera che ha avuto una lunga gestazione e viene rappresentata questo lo voglio racconto il primo aneddoto il 26 aprile del 1987 al teatro reggio di parma racconto quest'aneddoto perché io c'ero io ero al teatro reggio di parma il 26 aprile 1987 con tre miei cari amici livornesi daniel paolo e marco prendemmo il treno andammo a parma io convinci questo gruppo andare a parma a fare questa follia e ho 17 anni dormimmo lì un'opera che oggi sarebbe impensabile da portare sulla scena perché c'erano centinaia di attori danzatori sufi una scenografia estremamente ricca un'orchestra quindi una cosa che oggi sarebbe impossibile per i costi nel 87 e fu una cosa estremamente emozionante genesi poi ovviamente non ha avuto io comprei la cassetta non ha avuto una riproduzione però è bellissima secondo me ed è appunto il tentativo di raccontare genesi la genesi del mondo mettendo insieme il cristianesimo e altre religioni e il testo è stato scritto da battiato insieme sempre a rito masson l'allievo di gorge di cui parlammo e la voce di molti brani è di yuri kamisaska come questo che andiamo a sentire che è un piccolo diciamo brano di pochi due mi pare in meno di un minuto si chiama prima di me e già già dall'idea del nuovo battiato che ascolteremo stasera eccolo prima di me la densità la densità prima di me questa era la voce avrete riconosciuta di yuri kamisaska yuri kamisaska che fra l'altro in in questo inizio di periodo che stiamo raccontando è una una figura importante nel percorso e nei prossimi brani ci sarà un altro un altro brano in scaletta che lo richiama e poi magari ricordiamo anche che il 15 febbraio avremo avremo con noi yuri qui a bologna yuri kamisaska faremo una serata con un teatro e siamo in teatro al teatro del baraccano con la proiezione del documentario dedicato al percorso artistico umano e spirituale di yuri kamisaska che ha avuto ha avuto una vita intensa da quel punto di vista e dopo la proiezione del documentario yuri farà un piccolo live acustico di una decina di brani più o meno fra i migliori può darsi che uno dei prossimi brani sia proprio uno di quelli che farà anche yuri e non so se vuoi aggiungere qualcosa genesi oppure prima di me vivevo già sotto altre forme la densità della materia diminuiva ecco perché parlavamo del bardo vedi qui c'è già forte il tema della trasmutazione o trasmigrazione delle anime o la reincarnazione è una cosa a cui battiato sempre detto di credere da moltissimi anni e questi temi diventano inespliciti la musica diventa più pulita viene fuori poi anche negli album successivi l'orchestrazione proprio la classica vi ricordate negli ultimi brani era tutto pop elettronica con pop estremamente ritmato su batterie sintetiche qui adesso tutto cambia e diventa tutto classico anche i testi estremamente asciutti ed estremamente diretti e difficili ma estremamente diretti e puliti senza e quindi prima di me mi vivevo già sotto altre forme è chiaro che qua vedete c'è un cristianesimo già mediato da altre religioni perché c'è questo tema della reincarnazione che è dibattuto nel cristianesimo se battiato dice nella bibbia si parla di reincarnazione ma il papa non sarebbe d'accordo no mi pare che soprattutto questo ultimo però mi pare che su rispetto ai testi ci siano anche qui delle risonanze rispetto al primo al primo battiato la puntata scorsa abbiamo ascoltato fetus dai primissimi dischi mi pare che i testi richiamino alcune alcune cose di quel primo periodo di battiato nasce molto prima come amico e collaboratore di battiato non certo nell'ottantasette certo ma nel settanta si dice hanno fatto il militare insieme in friuli e poi sono subito conosciuti negli anni settanta hanno collaborato già con alcuni brani il prossimo piccolo salto che facciamo riguarda un disco secondo me bellissimo tutto importante già a partire dalla copertina parliamo di fisiognomica del 1988 in cui in copertina si vede c'è una foto di battiato da da adolescente con dietro un cielo stellato nella descrizione del disco battiato scrive un bambino degli anni cinquanta col naso non ancora trasformato dallo scontro con un palo di una porta da campo di calcio ci osserva divertito dalla copertina quello stesso bambino di poco più di una trentina d'anni più vecchio che messo sul disco ci canta dell'universo rappresentato alle sue spalle battiato sintetizza un po' così il disco e questo forse è una cosa che mi pare l'abbia scritta Francesco Messina che ha fatto la copertina del disco e ha diciamo proposto poi questa questa buffa di dascalia battiato battiato quando era giovane e ancora in sicilia aveva provato a fare il difensore di calcio quindi aveva provato anche un po' a giocare a calcio e Fisioniomica è un disco che segna veramente un nuovo inizio per battiato molto diverso Genesi chiaramente è stato ma è un prodotto molto di nicchia molto poco fruibile invece Fisioniomica vende oltre 300.000 copie battiato torna a vendere molto con questo disco ha dei brani che sono diventati dei classici come ti vengo a cercare e come anche questo che andiamo a sentire che è un oceano l'oceano di silenzio fatto il testo tra battiato e Flair Jagui che è la poetessa scrittrice e anche moglie di Calasso con cui il battiato aveva già collaborato in Patriots lo ascoltiamo in stato meditativo e poi dopo ne parliamo a a a Grazie a tutti. 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 Papa Giovanni Paolo II. Grazie a tutti. 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 di tutti. Grazie a 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 tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. perché a tutti. Grazie a tutti. come... e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. qui. qui abbiamo... Grazie a tutti. e di declino. e a tutti. Ne abbiamo... Grazie a tutti. Degna... lode... e... e lo sapeva... e... 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 nella scritto. della musica... e... libretto per il libretto. e... e... con quelli... con quelli che abbiamo ascoltato... in questa puntata... Ero... e... 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 ultima puntata... e... 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 abbiamo... e... 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 cercate... e... 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 e...